ehi Uncle Grandpa l'8 al 9 e 10 luglio a Manciano c'è il Cartoon Village 2016 ehi perché non ci andiamo forza prendiamo il capper e poi ci invitiamoci sarà un'esperienza fantasmagorica ehi 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 ma certo che fantasmagorica e' eccellenza e' spettacolare farò sapere che tutti al Cartoon Village ehi 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 Cartoon Village dice una regola sola divertirsi fino a che parte la ola fino a che parte la ola